La Cispadana Autostrada regionale si farà, a ottobre arriva il progetto definitivo da ARC, entro fine anno conferenze di servizi, prossimo anno, entro la fine del prossimo anno, apre il cantiere. Ci vorranno 4 anni per realizzarla, circa 1 miliardo e 3 di costo complessivo dell'opera. Noi abbiamo ricapitalizzato per altri 100 milioni, come avevamo promesso, altri 100 li mette la società che dovrà realizzare l'opera e una novantina saranno invece di riduzione di costi. C'è una soddisfazione da parte mia straordinaria. Avevamo promesso in questa legislatura, e non ci credeva quasi nessuno, che le opere infrastrutturali decisive e necessarie le avremmo sbloccate una a una. Questa forse era la più complessa per ragioni che stanno anche in capo a un'ostilità delle forze che sono al governo del Paese. Io credo che abbiano capito che il mondo delle imprese del lavoro, del turismo, ha bisogno di un'opera che farà ridurre i costi di trasporto, ridurre i costi di viaggio ai cittadini, che garantirà di ridurre il traffico su Bologna di non pochi punti percentuali, perché oggi l'unico modo per arrivare nell'Alto Adriatico e nel Ferrarese è passare da Bologna. Ci collegherà la Brennero, quindi all'Europa, e poi soprattutto sarà anche minore inquinamento, perché quando le auto non si fermano ad ogni semaforo, non stanno in coda per ore, è evidente che chi capisce un po' di queste cose sa che si inquina meno. Grazie a tutti.